e che riscritti qui c'è questa nuova puntata di minecraft server è un po strano minecraft server perché oggi non sto su nessun server sto qui con riccardo 003 tipo agente segreto good morning eccolo e come funziona questa mappa meglio se entriamo subito in partita così lo vedete è una mappa che ho scaricato l'ho messa sul server può entrare nel team rosso se puoi e come funziona questa modalità probabilmente l'avrete già vista vi spiego abbiamo dei missili che avete visto qua alla lobby adesso vi faccio vedere sono questi missili questi qua con slime pistoni e tnt e bisogna spammare missili a bestia da una parte o dall'altra fin quando non si arriva al portale perché vedete c'è del vetro quando si arriva al portale si vince io direi che possiamo iniziare io sono pronto no forse non hai capito che neanche mi fa entrare ma sei entrato siamo in partita adesso inizia tra 3 2 1 via ecco qua abbiamo delle non è vero non abbiamo delle frecce come funziona ecco detto appena piazzato un missile appena piazzato un missile io non riesco neanche a muovermi si vedete il missile guardate come si muove destreggiandosi riccardo no però vedete come arriva lentamente intanto continuiamo a spammare le tante lui fk quindi chi se ne frega guardate guardate boom esplosione vedete l'obiettivo è appunto quello di rompere tutto il portano tutto arrivare al portale insomma ok ho lanciato tre fireball completamente a caso guardate vai sì la navanana Seriously non mi fa morire guardate lì guardate quanto esplode nananana 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 guardate guardate boom breccia ho vinto wow sono fuori e bella partita a sky wow ha pensato di assentire con un'altra vabbè ovviamente salti tutto perché 235 secondi no no metto tutto tranquillo si inizia boom ah ma sono questi fighi ma allora io non ho giocato a quelli ma queste sono le sky wars sì queste sono bad wars l'importante è crederci ma stai facendo un ponte what a beautiful ponte io mi butto non è vero soltanto arco sì sì no no sono tornato normale ok riccardo dai c'è un po di aspirapolvere dentro casa tua no è un aereo ok non ce n'è accorto no la sua roba ma qui c'è un ponte via 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 c'è un altro ma tutti fk su sto server ma come è possibile no l'ho appena deve stato in un colpo solo che secondo prima 14 con bridge builder che non so cos'è aia 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 muoio muoio bravo bravo ma perché fare questa poverata quando vuoi fare utile mi dicono che tristezza perché farò quello poverata quando soltanto 14 euro e 99 dove sai che c'è da al centro tanto il parkour ci sono riusciti eccole ci devastano tanto ci sciottano male la vita io c'ho tipo a my full diamond instant damage c'è un instant damage ma ho soltanto due frecce niente vai spa mai sono ancora in 89 quindi posso spammare pure io abbiamo vinto è la prima volta che vinco un attacco epilettico hanno fatto esc disconnect abbiamo vinto addio chiudo che fa ambe bravo così gioco meglio proviamo sì se alla piazza scoppia e scoppia subito , si scoppia subito no 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 oh uno smeraldo dai mi sta togliendo cuori a manetta basta manetta ma perché manetta è sta togliendo cuori a manetta Cioè senti i cuori 8 Stanno arrivando, stanno arrivando Io vi lancio una pozione dell'instant damage Vi sfondo la Vai scappa Scappiamo Io mi suicido Io sono scappato malissimo col bridge builder Guarda quanto fai schifo Io ne ho quasi ucciso uno Non è vero L'altro? Ah no sono due ok sono morto Addio Ho perso un altro cuore no? Guarda che mi ha abbandonato Na 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 Con la che fa me da attaccare L'ho devastato perché non sa combattere Mi faccio così tipo Ho preso in pieno Però non gli hai fatto niente Perché c'era la mia dottore No ho provato a fare una Ma l'ho ucciso almeno Perché hai messo l'acqua e si L'ho ucciso Si è suicidato Si è suicidato Nuova partita Nuova corsa Quanto perdiamo allo stesso? La prima l'abbiamo vinta però Perché ieri è venuto l'attacco cardiaco ed ha abbandonato Sì però eravamo al centro Dobbiamo sbrigarci E questo è l'obiettivo Non è vero bisogna essere power No questo rosso no Non lo prendo più Ma la cosa strana Quando bevo la peggio roba Coca Cola Mangio un casino Faccio i rutini tipo Quando bevo il latte Tipo due ore fa Faccio i rutti Che in confronto Hiroshima Sarebbe stata una puzzetta Oh mi do due cuori in più Tre cuori in più Quattro cuori in più Mi ne ho fatto uno Lo so lo so Ma non è importante L'importante adesso è Vincere Quattro chestplate di diamante Cinque Un'altra chestplate Ho sei sei chestplate No I pantaloni sono caduti nel vuoto Non ci credo Fè Fè Cili ho io i pantaloni Grazie Che figo Quando raccoglie fa tutto lui in automatico No è sempre quello Sono due Sono due Sono due Sono due Sono due Aiuto 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 Eh ho visto Però dimmelo così Non muoio male Non ho più fecce Dai 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 Dammi una mano su questo Su questo Su questo Su questo Gangbang Gangbang Su quello rosso Perché lo vichichi con un piccolo Non lo so Ho sbagliato Ah Grazie 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 Mi stanno colpendo per farmi andare più veloce Grazie mille Ma mi stanno uccidendo Per ucciderlo Ma sì Sei caduto Sei serio Ricca l'ultimo al centro L'ultima Sottoterra Adesso no No Ok Full diamond Ecco bravo Ok Adesso vediamo la partita finale Stubido GG Nice Prendiamo subito questo Mi ha giunto un cuore Prendiamone un altro No Mi ha tolto un cuore Io direi Andiamo un po Il bridge bull Usano Come fai sapere Che c'è l'amco Mi hai detto tu Facciamo un po' di ponte così Vabbè sì No facciamo tutto il ponte così Tanto qui non te buttano giù Guarda eh Guarda eh Guarda guarda L'ho chiamata L'ho chiamata Eh Look at me Look at me Look at me Please don't do Don't do please I have so much to do In me la Ci Ah Ciao Oh 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 Questa è quella di prima Un è morto Un è morto Anche l'altro Ah vado a fuoco Aia C'è una chest Ah serio No 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 È mia Niente di che Perché tu come ci sei arrivato Ah Che tu vai a fondare a mondo E io invece Povero Che c'ho due pezzi in aero Mamma mia Non l'avevo visto Questo blocco Perché C'è un piccolo Che sempre ci abbia visti Sì Ci ha visti malissimo Ok E pure full enchanted Ah Io mi sono appena avvelenato Ma mannaggia a te Mi stanno seguendo Non ho frecce Che tristezza Ho capito Però lui mette il fuoco Mannaggia a lui Ma guarda come Targeta soltanto a te Perché sa che io so fare PvP Attento che può spam Mamma ma Oh ma prendi solo me Vai vai Ho guadagnato del tempo Ti sta prendendo di mira Vero perché io sto senza vita Occhio Occhio Come faccio a non avvelenarlo L'ho avvelenato L'ho avvelenato io L'ho avvelenato io Vai che c'è pochissima vita Dai Sì ma mi ha ucciso Guardalo 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 Ah ma state solo voi due comunque Ah sei morto gang 4 3 2 1 Via 1 2 C'è 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 Vai lasciamo Lascia Lascia Ci stanno tanti blocchi Tu proprio sul mio devi andare No È scassato però Io prendo questo qui ultimo Ma che ne ho la TNT Ma sei proprio un cretino No Mi tocca giocare da solo Stavo facendo il ponti e ho detto ma sta mettendo la TNT Aspetta che vada a venire Vabbè adesso ti vendi che erorica Per quello che ti ha ucciso Ma io non ho una spada Tu hai il piccone Eh vabbè il piccone Lascia fa un bordello di danno Fa danno quanto la spada Sì C'è scritto In due muori eh Se dico Pensi in uno Guarda ti ha sciottato In pratica di toglie Ah Ah Guarda Cosa Ma la voce no E quindi se vi piace lasciare commenti a scrivere Noi ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft Server E Ciao ciao Era proprio necessario No